questo è l'unico come uno sfido Vito qual'è? è tu? no no dai parlami un attimo niente questo è preconcerto annuncio il mio concerto live partedì il numero è non abbiamo fatto niente 24 perchè 25 che è? poi la liberazione di che? liberazione degli italiani dal fascismo ma non del propezionismo io sono ero anche nel 25 ma non è del propezionismo frate no frate 24 da Roxy alle 11 più o meno e venendo tutti numerosi invitati i nostri amici sentite un po' di rap bello ma rap come? rap fatto di? rap realistico no no rap fatto di? no basta rap profita di oh frate rap fatto dei core ah rap fatto di core rap? una persona che fa rap dei core non per fare i sordi perchè l'altro sono pezzi di merda porco dio che fanno rap per fare i sordi noi siamo rap rapisti per fare del bene per aiutare la gente porco dio